Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 7 marzo, sono le 10.04 e dobbiamo concentrarci su che cosa sta succedendo sui mercati, anche perché le situazioni sono parecchio differenti. Partiamo dal MIB. Quello che mi aspettavo ieri, lo sapevate, era una possibilità finalmente di avere una candela rossa giornaliera. Che cosa è successo? Assolutamente non rossa, è assolutamente dispinta. Per cui che cosa ho dovuto fare? Ritornare sulle regole e pensare che cosa poteva essere successo. Riflessione molto semplice, 153 barre mi proiettano a un semestrale, per arrivarci però, finito il tempo del mensile inverso, non lo faccio chiudere qua, ma lo faccio chiudere a 32 barre e chiude lì. E chiuso a 32 barre, poi parte un raccordo che ci sta come tempo di grado T più 1 inverso, 14 barre per un bisettimanale sono perfette, che va a chiudere con un raccordo il nostro semestrale d'inverso. Attenzione, ok? Abbiamo ancora del tempo teoricamente per salire, perché secondo T inverso sarebbe arrivato a 8 barre su massimo 11, per cui attenzione massima a come continueremo la giornata, anche perché abbiamo iniziato con uno storno e siamo finiti sulla media mobile a 50 periodi, però stiamo rimbalzando sulla cumo, non è che stiamo iniziando a penetrare. Se inizieremo ad avere una chiusura, ok? Dentro la cumo di una candela, potremmo essere attirati verso il basso. Viceversa, guardiamo bene la situazione, qui siamo a 37 barre, bisogna monitorare questo minimo per vedere se riesce a partire un nuovo T-3, e qui di ribassista per chiudere un settimanale, abbiamo del tempo puro, che io mi segno sempre, questo ciclo ci dice chiusura del settimanale e possibilità persino di partenza di un nuovo settimanale, ok? Ecco perché questo raccordo va monitorato con estrema attenzione, anche perché trattasi appunto di raccordo. E che cos'è un raccordo? È una finta ribasso, partenza di un ribasso, raccordo inverso, ok? Con successivo rialzo, e il rialzo fa male a tutti quelli che si aspettano da tantissimo tempo, uno storno dei mercati e parlano di bolle, tutto quello che volete, non sono bolle. I mercati sono regolati dagli HFT, ok? High Frequency Trading. Con l'analisi ciclica e ciclica evoluta possiamo comprendere una buona parte della meccanica di questi HFT, e noi attendiamo che ci siano dei segnali per una discesa, ma non ce ne sono. Se non riusciremo ad andare sotto questa media mobile, è difficile, se non andremo sotto la nostra cumo, non verremo attirati dalla parte inferiore e quindi sarà semplicemente partito un nuovo T-3, settimo T-3, attenzione perché appunto qui a tempo puro abbiamo chiuso un altro settimanale, da cui ne può partire un altro se hanno voglia. Sul DAX sappiamo già di base che la faccenda è differente, ok? Va bene, facciamo così scusate, ok? Vi avevo dimostrato che potevamo essere di fronte a un, che cosa? Trimestrale, di nuovo bizzarro, fatto da un T-1 inverso più, da un T-2 inverso più, solo un T-1 inverso, ma la questione principale può essere la continuazione ovviamente della salita, qui siamo a 1, 2, 3, siamo alla quarta barra qua sotto, e lato indice è, qui possiamo avere serenamente chiuso a 8 barre e da qui può partire un altro T settimanale, ok? Quinto T, e siamo a 3 in realtà, ok? Scusate, sì, no, il quinto T è un tubo, un attimo, non è vero, sì, hai ragione anche tu, facciamo così, qui siamo a 11, ok? Guardate un po', sono 9, 10, la barra di oggi che ha fatto un minimo inferiore, ok? Da qui può partire un nuovo settimanale, anche perché, a parte che noi siamo già a long e stiamo vedendo candela per candela di vedere se si riesce a ritornare su questo livello e questo livello, ok? Ma a parte quello, qua abbiamo rimbalzato, ma non abbiamo violato lo swing per la partenza di un nuovo ciclo settimanale e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lateralizzato tanto su DAX facendo un nono T-3, un decimo T-3, chiuso a 39 barre, da qui può partire persino un nuovo settimanale. Se sta partendo lo stanno facendo in sordina, mettiamo almeno un new T-3, ok? E noi stiamo proprio vedendo se hanno voglia di arrivare a un target dinamico datoci dal Tecnica 2 che ci ha permesso un ingresso più o meno appunto in quest'area e ovviamente per pagare, dall'inizio anno, per pagare qualsiasi trade, ci stanno facendo penare con candele verde, rossa, verde, rossa, eccetera, eccetera, perché ogni singolo T-3 guadagnato da inizio anno è frutto di tantissimo lavoro rispetto al solito, di tantissima attesa in lateralità, perché ieri di nuovo c'è stato un laterale, mi sembra compreso tra 60 tick, che è snervantissimo quando si fa trading, e anche su MIB, ok? Non è che abbiamo fatto capriole mortali dopo l'apertura alle 9, abbiamo fatto queste due candele, poi pausa e poi tantissima lateralità, ok? Sono giorni difficilmente tradabili se non fate scalping, se fate scalping, tocca ità, c'è quella possibilità, altrimenti, ecco, non è semplice rimanere fermi, stiamo cercando di rosicchiare tick ormai da una parte all'altra e non è affatto semplice. Qui vedremo se appunto ci daranno come minimo questo livello, poi in realtà si va a salire, ovviamente dove sapete, occhio solo che stiamo andando in Death Cross, o iniziamo a trovare volumi per salire sopra queste due medie mobili e sopra l'acumo, va bene, se non li troveremo avremo delle opportunità, per cui vedrò se appunto mantenere il trade, con il rischio che da qui non stia partendo un T settimanale, ma voglio persino fare un undicesimo T-3, che sarebbe possibile, la candela manca, ok, quindi, teoricamente sì, ok, quindi dovremo capire se sarà nuovo T oppure undicesimo T-3. Anche per questo motivo vi lascio e torno al trade, e torno alle mie riflessioni, siamo a 4 barre sopra un minimo, i livelli dell'algoritmo come di consueto li darò nel gruppo premium, se avete piacere di vedere appunto analisi che vanno molto spesso a target, e un trader serio, un analista serio, che ha un canale, il canale più grande di analisi ciclica, poi evoluto e non evoluta, di tutta Italia con oltre 16.300 iscritti, basta cliccare su iscrizione del canale, cliccare sulla campanellina, e iscrivervi in modo da essere sempre avvisati quando ci sarà una nuova analisi su indici, cripto, commodity e quant'altro. Auguro a tutti una splendida giornata, arrivederci!